buongiorno a tutti benvenuti sul canale voce strumento interiore questo non sarà un video come gli altri questo sarà un video dove io metterò paro paro una conversazione avuta con una mia carissima collega che nasce come cantante lirica e beccantista con cui in questo anno ormai c'è stato uno scambio assiduo e ci siamo scambiate molte opinioni trovando visto che questa è la politica del libro voce strumento interiore sia punti di differenza che punti di contatto col nostro canto lirico beccantista tradizionale italiano per cui non c'è niente da dire in questo video si parlerà di registro misto di accomodamento laringeo si parlerà di igiene vocale e si parlerà anche di sport si parlerà di un bel po di argomenti utili per chiunque sia interessato al mondo del canto per cui non dico nient'altro è un po lungo ma vale la pena vederlo grazie a tutti buon contenuto speciale molto speciale questa volta siccome c'è una confusione su quello che è il registro misto viene fatta la distinzione mettere da una parte la tecnica e dall'altra parte la massa come fanno spesso gli insegnanti americani cioè gli insegnanti americani dicono che la tecnica è questa e poi di qua c'è la massa per massa si intende quanta aria usi esatto quanto volume dai a ciò che fai quindi è molto più facile a questo punto capire tutto però bisogna tenere separate le due cose le tecniche vocali e la massa d'aria il vocal coach quindi chi sarà essendo il vocal coach uno che ti fa muovere il corpo ed è molto concentrato sull'azione fisica e l'azione dei muscoli sulla vocalità chiaramente la massa ci sarà sempre quindi il vocal coach è uno che forma dei solisti non dei coristi ok perché ci si aspetta da un leader da un frontman che insomma ti dia un po di volume ma come dicevo sempre miei allievi quando arriveremo al saggio se c'è un fonico e tu sussurri nel microfono il fonico ti dice subito si mi dai un pochino più di volume quindi nessuno si aspetta da un solista che canti piano altrimenti è un corista quindi il corista fa esattamente tutte le stesse cose che fa un cantante solista ma da questa parte c'è una massa sempre leggera esatto quando il solista invece ovviamente quella massa diventa maggiore quindi in realtà il corista ha tutte le stesse identiche tecniche di un solista ma avrà un minimo di belting e ovviamente le compressioni non ci saranno perché le compressioni sono quelle che schiacciando il palloncino dell'aria confliscono pressione e quindi volume quindi alla fine sì perché nel mio libro ho detto semplicemente voce da solista e voce da corista perché così mi sono risolta il problema della massa cioè le tecniche sono tutte poi entra in gioco anche la postura perché dico sempre alle ragazze se dovete fare un suono leggero non ci mettete non andate indietro col corpo che andate a dare carico perché è istintivo dai carico subito da sotto perché la postura indietro ti fa un pochino andare in anteroflessione il bacino e fate subito un passo avanti ancora ad alcuni risulta un po scomodo no soprattutto per chi viene dal repertorio classico perché per noi non esiste andare avanti ecco col corpo noi lavoriamo comunque sempre di appoggio e sostegno è chiaro perché la massa comunque sonora non è supportata da un microfono sì ci sono i microfoni magari nei cori ok ma sono microfoni panoramici se sei in un ambiente in cui infatti guarda quando ho scritto il libro con la mia collega mi diceva ultimamente vedo che anche nella lirica si usano i microfoni ed è una cosa allucinante è una vergogna pazzesca è vero perché il canto lirico come dico nel libro nasce perché non c'erano i microfoni all'epoca perché tu dovevi essere udibile come mi diceva lei fin dall'ultimo spettatore esattamente eri tu eri tu che dovevi comprimere amplificare potenziare e quindi ovvio che nel canto lirico ci sia anche molto di più che nel canto moderno perché non usando i microfoni quindi lei era inordita all'idea che fossero stati introdotti nei teatri i microfoni quelli a stilo sai quelli qua addirittura stilo io ho visto qualcosa ma sono microfoni panoramici comunque il cantante di resta molto distante dal microfono è perché comunque la massa sonora è così tanta che non puoi andare a cantare per me è impensabile cantare con questo ad esempio nella musica moderna dove vedi classico sanremo il solista davanti che canta e dietro i coristi che sono in piedi dietro un'asta quindi già il semplice fatto che tu sei vincolato e devi mettere il microfono su un'asta e quindi devi stare sempre a quattro dita dalla capsula come fai a mondo non puoi quindi si dà per scontato che quando io nel libro dico voce da corista intendo tutto lo stesso lavoro che si impara da solisti ma ovviamente la massa è quella poi vuoi un po scorirci lo che fai vuoi colorare un po' al ribasso vuoi riempire le frequenze basse accomodi la legge ma tutto molto leggero leggerissimo perché ti copri il solista e questo stanno un po' passami il termine col sedere un po' in fuori se tu guardi i solisti esatto i coristi stanno un po' con questa costura un po' col sedere un po' in fuori perché io dico sempre alle ragazze guardatele guardatele che cosa fa guardate il cantante che cosa fa infatti lo vedo anch'io io quando devo lavorare da corista io che cosa faccio alzo un po' tutto il torace questo mi riposiziona un po' il peso in avanti quindi il sederino se ne va un po' indietro alzo anche le spalle perché le spalle sono quelle che quando scendono fanno la compressione ma quando salgono la tolgono quindi ovvio che loro hanno molto più lavoro di maschera e poi questo allontanamento della parte superiore dalla parte inferiore ridistende il retto dell'addome quindi invece di piegarlo boing il retto dell'addome viene riallungato e quindi certo che c'è un po' di belting ma veramente leggerissimo esatto io dico sempre non mettete tanto perché vi serve il giusto per tenere pulito il suono perché se no magari se non hai la praticità del fisico magari ti cade io dico cade il suono passami la metafora se loro non lo mettono un pochino è come se proprio crollasse l'impalcatura magari che siamo più abituati a cantare non lo molliamo loro lo mollano allora dico sempre mettetelo un pochino poi più il suono lo volete voluminoso più il suono sale lo volete più aggiungo è direttamente proporzionale io dico sempre loro pensatelo più semplice più salgo più esatto c'è da distinguere sempre no ma è il registro misto ok bisogna chiedersi se il registro misto è a volume o no cioè c'è un'altra domanda dopo questa ok ma questo è misto allora quindi io dovrei fare il voice craft il voice craft quando mi fa andare in testa mi stringe il suono ok alza la laringe il tubo si estende completamente raggiungo la fronte registro di testa è ovvio che se io non c'è tutta la parte muscolare io sono leggero in cry quindi stimbro verso schiaritura ok e quello è quello che farebbe un corista ma aspetta perché corista se c'è una voce iper squillante che sta cantando come solista e tu gli fai tutti i cori ancora così più squillanti hai poi un tetto di frequenza acute immenso quindi di solito se la tua cantante solista su cui tu vai a lavorare come corista invece una voce chiara tu dovrai accomodare un po perché devi facendo il misto senza massa cioè facendo il registro misto da corista riempire quelle frequenze basse che mancano alla voce del cantante capisci riempire col colore esatto però si tratta di colorazione se io faccio il misto senza belting perché si può fare questo questo sto abbassando la laringe sto facendo accomodando la laringe però vedi che il volume che uso è sempre poco quindi è un misto registro misto sì ma senza belting metterò il belting se invece io sono un solista perché nessuno si aspetta da un solista che canti piano e quindi è ovvio che tutto il lavoro di vocal coaching di belting aumentato e compressioni se sei un solista invece lo devi saper fare la verità è che dovresti saper fare tutto quindi ci si aspetta da un cantante oggi specialmente che gli studi di registrazione ce l'hai in casa quindi con mille 1500 euro ti fai un recording studio se io devo registrare una canzone cosa faccio chiamo un altro a farmi i cori non è accettabile questa situazione no quindi dovrò fare cosa dovrò farmeli io quindi non posso farmi dei cori allo stesso volume con cui ho cantato la voce solista e quindi il mio lavoro da corista è esattamente uguale a quello dal solista ma sempre a massa leggera quindi da una parte le tecniche dall'altra la massa che sono due cose diverse bisogna tenerle separate ecco perché scrivo voce da corista la gente ma voce da corista ma alex baroni aveva la voce da corista per esempio jurman si è incazzato perché c'è gente che dice che lui perché come si chiamava il fidanzato di giorgia baroni baroni alex baroni tutti si si arrabbia perché diciamo che aveva una voce da corista io l'ho visto le salumerie musicali a milano salumeria musicale officina musicale non mi ricordo a milano cantare non staccava mai microfono dalla bocca sempre attaccato qua quindi quanta massa aveva allora se non dobbiamo dire che aveva la voce da corista però possiamo dire che aveva una massa leggera quando cantava certo subito dopo di lui c'era paola folli che invece negli acuti il microfono lo allontanava quindi paola lì è una solista cioè la massa che usa e che dimostra di saper usare poi magari fa anche la corista paola folli non lo sa lavorare anche di massa leggera ma io quando l'ho vista cantare cavolo che bella massa che aveva che bel volume che bella voce potente quindi io ho visto sia alex baroni che paola folli posso diretti che alex baroni ha avuto una prestazione da corista cioè usava una massa carissima quando cantava tutto vocal tract minimo belting niente compressioni voce da corista per me quella è una voce da corista poi è arrivata paola folli ha piantato un acuto e ci ha pettinati tutti a me piacciono quelle voci di sì mi piacciono le voci troppo leggere cioè un pochino di belting se lo metti sulla sul cry la laringe scende si accomoda quindi riempie sulle frequenze basse che facendo un cry puro non avresti questo è un po la sì sul tuo libro lo dici questa cosa esatto perché dici appunto aumentare il volume implica una modifica nella gestione nel rapporto dei sistemi muscolari laringei per mantenere la corretta intonazione quindi il misto è qualcosa che sta diciamo così a metà tra il cry e il petto ma anche lì poi dici poi tu bisogna capire a che volume esatto quindi è sempre poi una discriminante successiva questa certo posso fare un misto anche senza volume ora se guardiamo come insegna sherry porter noi capiamo che lei insegna delle soliste perché quando gli fa fare il misto gli fa tirare i pugni con quei guantoni ma se tu tiri i pugni con i guantoni tu stai facendo una compressione sul belting quindi la massa è piuttosto alta quindi sherry porter forma solisti poi magari noi non lo sappiamo le insegnerà anche i suoi allievi a togliere tutta la parte fisica e se tu togli tutta la parte fisica il misto senza massa a massa leggera cioè la voce da corista questo è in sintesi in massima sintesi è questo quindi per chiarirlo questo punto perché poi farò un video proprio su questo però la nostra conversazione al fondo in modo che tutti i dubbi vengano dissipati se tu vedi una sherry porter che mentre ti fa fare il misto le persone si muovono e muovono le gambe muovono le braccia e mettono massa certo con un'azione muscolare un movimento del corpo che aiuta rinforza il belting e aggiunge compressioni sul belting il volume la massa sale quindi tu stai su cui io non mi trovo d'accordo lei ha detto che mette il petto ora non mi ricordo la frase precisa insomma dice porta l'acuto in petto ecco questo ma l'acuto non può essere in petto ma per fisiologia fisiologicamente quindi secondo me lei o voleva dire qualcos'altro voleva dire qualcos'altro perché altrimenti genera una confusione pazzesca nelle persone che studiano con me sì esatto come io sono sulla quinta ottava e la voce è qua no non può essere fisiologicamente o lei magari voleva dire appunto di mettere massa e quindi renderlo pieno esatto voleva intendere quello se voleva intendere quello perché dire che l'acuto in petto per me è una bestemmia perché noi sappiamo benissimo che la tessitura è qua nella zona spiccia allora nelle note comode tu puoi essere molto espressivo anche perché lavori in effetti come un attore cioè il flusso esce principalmente dalla bocca poi quando la nota scende si fa cavità si porta giù il reggio di petto ma una quinta ottava non potrà mai essere in petto quello che intendeva dire lei traduciamo e che tu salendo se segui il metodo voicecraft ovviamente rimpicciolisci la voce diventa una stimbratura che anche nella musica classica nostra tradizionale è un errore perché anche nella lirica nel bel canto c'è l'omogeneità del timbro quindi se andiamo a vedere se tu fai il voicecraft puro e quando sali canti tutto così non va bene cioè non è bello perché infrangi la regola dell'omogeneità allora cosa fai puoi optare per il misto e prima intanto accomodare se resti legge questo volume sei un corista se ci metti gli strumenti fisici gonfi e sei un solista questa è in sintesi quello che intendeva dire lei cioè che tu prendi accomodando la laringe facendo il misto e poi mettendo il belting tu aggiungi alla tua voce chiara un accomodamento che va a riprendersi le frequenze basse poi se ci metti anche il lavoro fisico e le compressioni acquisisce ancora più frequenze basse e quindi puoi avere l'illusione che la nota alta che è in testa sia anche in petto ma resta il fatto che in petto non è cioè non può essere in petto una nota alta altrimenti le frequenze sono molto acute quindi è chiaro che il petto non risuona più come come risuona nelle note gravi che anche lì già nel passaggio del registro tu il petto lo senti lo comincia a sentirlo meno che rispetto alle note gravi però è anche vero che se tu fai un bom belting e quindi tu prendi il retto dell'addome lo inarchi a c quindi abbassi l'embo dritto del retto dell'addome tu lo concavizzi quindi c'è una bassa si trascina il diaframma verso il basso il diaframma quindi viene ulteriormente abbassato e quindi spianato tu puoi avere nel registro acuto l'effettiva sensazione che il suono risuoni nel petto perché è come se tu avessi fatto la clessidra cioè invece di avere la colonna d'aria ok c'è una parte alta che ha raggiunto il registro di testa perché la laringe si è effettivamente alzata per portarti il suono su poi tu facendo questa azione di belting e compressioni tu allontani sempre di più l'aria dalla laringe quindi da tubo diventa clessidra c'è più ampio sopra poi c'è uno stringimento e poi dopo è più ampio sotto quando quando succede questo però inevitabilmente la laringe cosa fa si accomoda cioè va giù per forza segue il percorso che fa il corpo poi percorso che fa il corpo quindi puoi avere in effetti la sensazione che ci sia molta risonanza ma perché perché anche quella minima aria che può esserci in fase di canto se sei in uscita dell'emissione o più aria se sei all'inizio dell'emissione quell'aria che è qua se tu abbassi e spiani il diaframma conferisce un allargamento toracico cioè un arresto costale maggiore quindi è chiaro che in uno spazio le molecole d'aria vibrino maggiormente quindi puoi avere una sensazione che l'aria residua in petto risuoni ma la verità è che la laringe comunque è configurata per raggiungere una nota di testa la nota è in testa questo questo è anche secondo me ed è un po come il lirico il canto lirico nel momento in cui io devo andare a fare una nota acuta non la posso stimbrare neanche nel piano cioè devo comunque avere il palato molle molto alto e ovviamente i punti di risonanza poi li saranno un po diversi nel piano rispetto al forte però comunque in testa rimane cioè la da appunto il colore passami il termine poi tieni presente che voi nella lirica nel bel canto come noi nel moderno abbiamo l'alexander ora quando noi assumiamo la tecnica alexander cioè estendiamo le quattro vertebre cervicale tiriamo in momento noi annulliamo quindi annulliamo e disinneschiamo tutte le eventuali tensioni che il collo può avere lasciando completamente libero il vocal tract quindi se la laringe non si accomoda è perché magari tu una volta che lei è salita per intonare la nota tu con la rigidità del collo l'abbraccio o il mento vai in avanti o pieghi troppo in avanti in chiodi lì dove si trova quindi quando tu prendi la nota alta ecco perché è importante un pochino fare l'alexander così nel frattempo ti assicuri che le muscolature del collo siano inerti perché se la laringe sta salendo per cantare quella nota e tu sotto chiudi il collo una volta che lei è salita le impedisce di accomodarsi cioè le impedisce il canto lirico che se ne dica che se ne dica io lo faccio fare anche alle alleve che mi fanno il canto lirico è veramente sì glielo ho sempre fatto fare e quello che impedisce azioni esterne sul vocal trac deve muoversi liberamente quindi se vocal trac deve muoversi e tu tiri il collo quello si blocca il vocal trac non sale più perché è bloccato dei muscoli questi muscoli qui sono estrinseci alla laringe per cui se io li irrigidisco loro chiudono istintivamente alla laringe che non è un organo nato antropologicamente per la fonazione ma era soltanto per riparare i polmoni da eventuali ingressi esterni quindi di partire di pigliarsi i polmeti e quindi lei risentendo ancora della sua natura di corpo diciamo protettore dei polmoni se noi irrigidiamo questi muscoli qua lei fa il suo lavoro perché lei fa il suo lavoro che è quello di chiudersi perché sente che c'è uno sforzo e deve garantire non solo deve evitare che entra che entrino elementi esterni ma deve evitare che l'aria fuoriesca nello sforzo chiudiamo per per mantenere l'aria dentro queste qua no dove le ricorde lavorano al contrario cioè invece di chiudersi sottoposta un'aria che arriva dal basso tu inspiri sì esatto quindi quando dicono parlano del rap allora intanto è abbastanza igienico perché comunque l'aria viene tirata in dentro e non mandata fuori e la corda si adduce ma riceve l'aria da sopra anziché da sotto quindi sono cose da fare senza nessuno strumento fisico perché tu immagina forzare un meccanismo di aspirazione diventa deleterio quello lì deleterio perché le corde non sono mai state abituate a ricevere aria da sopra al limite possono essere abituate a riceverla da sotto però tutto sommato se tu lo infatti vedi quelli che fanno il growl o il rasp non mi sono ricordo perché non sono specializzata nelle distorsioni hanno sempre il microfono attaccato alla bocca quindi si potrebbe dire che anche loro lavorano da coristi sì sì la massa da usare minima minima anche le distorsioni io non ripeto l'ho anche seguita con poco interesse questa porzione di preparazione sulle distorsioni perché a me non piacciono tanto non neanche a me infatti non so quasi nulla su questa cosa già di genere la gente spinge quindi diciamoci che il 90 per cento degli allievi vuole spingere quindi vuole quindi tende alla rigidità devi essere un cantante veramente molto bravo per fare una distorsione senza sentire il desiderio di spingere quindi proprio patronizzare la tua tecnica vocale in maniera totale perché altrimenti fare la distorsione col belting cioè alzando il livello di massa che supporta questa fonazione e ti distruggi le corde ecco perché il rock estremo va fatto solo da professionisti del canto e se no si fracassano si rovinano bisogna stare molto attenti alle distorsioni quindi non mi interessava particolarmente ma le distorsioni vanno fatte con massa minima come se fossi un corista infatti alessandro del vecchio diceva che la distorsione va fatta usando il frai ora sappiamo tutti che lo perdi se spingi cioè il frai ti viene bene quando sei completamente rilassato e non ce n'è un minimo di appoggio niente vedi se aggiungi se se appoggi va via esatto quindi le distorsioni sono sempre fatte a massa minima cioè devi lavorarle come un corista sì questa è un po la sintesi di quello detto oggi chi è devo rispondere potta pazienza quindi gli allievi ti chiederanno ma allora qual è la differenza tra misto e crai bene il crai il crai nasce dal metodo voice craft che infatti dice crai è il pianto del bambino se tu devi imitare il pianto del bambino porti subito la voce dagli occhi ok in questo caso intanto dobbiamo distinguere che tipo di adduzione cordale abbiamo perché io posso fare un crai così dove vedi che non c'è aria nella voce allora parlo di pulito quando parlo di pulito intendo che le corde sono vicine non c'è passaggio d'aria la corda è molto adotta ma se io invece faccio questa cosa qua la corda è aperta non posso fare se hai pulito cioè con corda vicina che è un crai falsetto perché ogni volta che le corde si aprono noi insegnanti di moderno lo chiamiamo falsetto falsetto esatto e beh anche lì ci sarebbe poi una parentesi da aprire falsetto moderno falsetto canto lirico vabbè poi ne parliamo esatto però quindi il crai può essere fatto a corda adotta o a corda aperta se il crai è a corda adotta io lo chiamo pulito cioè non c'è aria in questa voce questa voce è pulita pulitissima non c'è aria però posso farlo anche così posso farlo anche con tantissima aria che è quindi un crai falsetto noi chiamiamo falsetto tutto ciò dove le corde si aprono è quindi falso il suono falso ah ok voi lo chiamate sono falso sì nel senso per farlo capire bene agli allievi dico loro pensate a qualcosa che non è reale passaria quindi il suono un po si vorrebbe essere chiaro ma chiaro non è non so ecco per spiegarglielo un pochino perché loro poi si confondono col falsetto che nel canto lirico è diverso perché noi non abbiamo passaggio di aria il falsetto può esserci tutti i registri quindi quella domanda che tu dicevi e allora che differenza c'è tra crai e misto è che io vado in poi scendo quindi abbasso la laringe e posso quindi dal crai abbassare la laringe e fare il misto questo però ecco questo tu hai messo volume quindi tu hai hai fatto anche una messa di voce su questo misto ma il misto potrebbe essere anche fatto da un corista esatto tengo una massa leggera perché sono un corista non posso capire che lo supero ok a quel punto lì il misto però può essere fatto in che modo dicevamo prima che può essere fatto senza massa senza belting oppure con massa e con belting che quello di cui parla lasciare il porter ma può essere fatto anche falsetto il misto può essere corista corda adotta pulito ok corda adotta corista massa bassissima può essere fatta da un solista con massa o può essere fatto anche falsetto diciamo che i coloristi scelgono sempre tra pulito e falsetto si domandano esatto che colore devo fare questa nota anche se alta la devo fare con un colore scuro perché il solista è uno che ha già molte frequenze chiare di suo allora anche se gli faccio i cori glieli faccio rotondi cioè accomodano la laringe ma tengo la corda adotta oppure posso tenere la corda aperta e fare aria e quindi fare falsetto quindi secondo me uno che lavora da corista che non usa la massa che non canta da solista che non usa il volume in realtà si può porre solo un bivio tengo le corde adotte faccio un pulito o apro le corde faccio un falsetto queste sono le domande che si pone il corista ok il corista si dice questa cantante chiara di voce quindi se io sono troppo chiara arriviamo ad avere un cumulo di frequenze acute intollerabili allora facciamo che faccio il misto va allora faccio questa cosa qua ma adesso la corda è adotta adesso la corda aperta quindi si può domandare con che colore fare i cori quindi se tenere cry o fare il misto con che colore lo faccio lo faccio col colore chiaro col colore scuro quindi faccio cry o faccio misto e poi si può anche domandare ma lo faccio col pulito o lo faccio col falsetto cioè tengo le corde adotte o le apro sì perché loro cosa fanno queste domande vive di queste realtà al corista il solista si pone pochi di questi problemi perché solista comunque ha l'apporto fisico e comunque c'ha una certa massa peraltro loro è loro voi siete solisti non fate i coristi esatto quindi la massa si presuppone che ci sempre sia da un certo livello in su ed è che magari guardano ascoltano a ma questo dice questa cosa qua e magari c'è qualcuno che mi dice sì però quello ha detto che e allora si crea una confusione terribile si crea veramente una confusione terribile perché su internet c'è di tutto di più delle cose più o meno buone altre che non dovrebbero essere neanche pubblicate quindi i ragazzi vanno in confusione comunque l'unica cosa che può accadere a un solista che tendenzialmente usa una massa da media in su cioè il solista usa da una massa media in su l'unico di me quando deve girare in falsetto perché poi quando tu fai falsetto cioè stai facendo aprire le corde quindi il falsetto corrisponde sempre a una un difetto d'adduzione cioè le corde vengono riaperte per far passare più aria a quel punto lì tieni presente che se sei un solista non puoi più a delle corde che sono aperte quindi non sono più tese quindi non rispondono più all'aria come farebbero in condizione normale dargli troppa aria se no fai l'effetto bandiera ce le sventoli e loro vengono violentate quindi l'unica domanda che si fa il solista è se io che lavoro a una certa massa devo passare in falsetto e voglio cosa faccio smetti anche di spingere cioè la passa sulla gamba anteriore c'è dalla gamba anteriore che ti conferisce potenza e massa e tu devi girare in falsetto quando devi togliere la maschera che apre le corde tu hai il falsetto passa anche sulla gamba davanti cioè sgancia sgancia molto delle compressioni del belting altrimenti le corde rilassate che ricevono se tu resti indietro troppa massa fanno proprio l'effetto bandiera e le rovini e rischi di contatto delle frizioni quindi se da da il solista passa da volume a falsetto deve ricordarsi anche di smontare tutte le posture perché altrimenti si fa male quindi direi che abbiamo esplorato ma questo è anche un principio di base per esempio per quanto riguarda le agilità non posso farle mai mettendo troppa massa perché crea un carico maggiore e questo vale anche nel lirico è che se ne dica anche nel canto lirico se tu spingi a me non piace mai usare il termine spinta però ma se per capirci se tu dai troppa massa le agilità non le fai ma manco se ti pagano devi anche alleggerire c'è sempre l'appoggio è diamo per scontato che nel canto lirico ci sia sempre appoggio e sostegno l'appoggio invece noi manteniamo un pochino di belting cioè passeremo da dietro ad avanti nell'atto però del passare dalla gamba posteriore alla gamba anteriore tu non sganci il retto dell'addome quindi se presi un po' di belgio c'è sempre esatto l'appoggio c'è sempre però passando dalla gamba posteriore a quella anteriore tu richiudi il torace togli le compressioni e quindi hai già ridotto di un bel po' anche se mantieni un filo di belting sempre sotto perché altrimenti rischi poi la stecca del tenore cioè se togli tutto e sganci tutto e rilassi la pancia poi fai queste cose esatto e anche nel canto lirico almeno dagli studi che ho sempre fatto comunque da quello che provo anche io su di me se tu metti massa se tu appoggi troppo più del dovuto l'agilità non ti viene perché la laringe è come se fosse troppo compressa viene tenuta dall'aria perché poi l'aria così come se noi abbassiamo il diaframma favoriamo l'accomodamento verso il basso della laringe se noi invece usiamo una massa elevata noi teniamo la laringe su e se la laringe è troppo alta non si accomoda l'agilità non non arrivano perfetto esatto e io sto anche fumando l'elettronica mi raccomando non fumate sigarette vere che la combustione è dannosa più che altro per la combustione delle sostanze chimiche quindi sono scaldata quindi se proprio termici se lo potete togliere elettroniche che almeno scaldano io sono una di quelle che fa campagne antifumo lo dico apertamente ho litigato per anni con i miei però io ti dico io quando fumavo perché io sono stata una fumatrice per tantissimi anni e avevo l'edema di Reinke che sappiamo che l'edema di Reinke è un edema che riguarda i fumatori quindi la corda per proteggersi dalle dalla combustione quindi non tanto dalla la combustione genera un calore fortissimo quindi la corda per proteggersi fa un edema si circonda di un edema di una piccola bolla lungo tutta la sua lunghezza per cui cosa accade che devi spingere molto di più non è non è pubblicità nascosta ma queste non ti danno questo problema perché viene solo scaldato non c'è la combustione quindi se proprio sei uno che riesce a togliersi il vizio insomma passa l'elettronico tempo fa vedevo che c'era anche una differenza nell'elettronico e un medico ha fatto un un esperimento sulla sigaretta vera e due tipi di elettronico adesso sono ignorante non ricordo hanno due tipi di sistema diversi questi elettronici e ha scoperto che uno addirittura non dico che fa bene però non crea alcun danno cioè il danno è veramente minimo comunque irrisorio una percentuale bassissima della temperatura sviluppata perché la temperatura potrebbe incidere sull'umidità quindi diciamo che quello che danneggia la corda è anche la secchezza probabilmente ci sarà un tipo di elettronica che non sviluppando eccessivo calore per scaldare il tabacco avendo meno calore noi abbiamo meno umidità quindi la corda patisce di più se invece non sono troppo calde non diventano bollenti quindi scaldano poco probabilmente il tabacco la quantità di umidità nell'inalazione è maggiore quindi la corda viene anche idratata non rimane secca potrebbe essere dovuto a quello e anche per l'inalazione di sostanze cancerogene era veramente minima la percentuale ha fatto uno studio insomma di molti mesi e ha visto proprio che l'inalazione di questo tipo di elementi era veramente minimo veramente minimo ogni volta che c'è la combustione c'è la co2 no la famosa co2 c'è anche il motore a scoppio le macchine perché inquinano perché con la combustione cioè con bruciare una sostanza si liberano molecole dannose tipo la co2 anidride carbonica quindi probabilmente se tu bruci la si accendi con la fiamma la sigaretta e bruci il tabacco e bruci la carta c'è anche la co2 quindi non solo asciughi la corda ma mandi co2 mandi anidride carbonica nei tuoi polmoni mentre invece se viene tutto solo scaldato e non combustito non so adesso mi inceppo e non bruciato non hai la co2 quindi non inali sostanze tossiche sapevo anche che alla base delle corde c'è una ghiandola che secerne muco per proteggerle questo normalmente e purtroppo appunto il tabacco infatti per questo dico agli allievi evitate o magari in previsione di un esame vi prego non fumate perché questo questo muco che protegge le corde diventa molto più più denso quindi togliere scrollare ste corde poverine da tutto sto muco perché un po è normale deve esserci perché le corde vengono rivestite sono protette ma l'alcol le droghe e il fumo adesso ci vuole quindi diciamo una cosa interessante su questa cosa di bere un whisky prima di cantare no no perché l'alcol essendo a sviluppando calore che cosa fa assorbe e risucchia e prosciuga asciuga tutta l'umidità delle corde quindi meglio di una frizione perché la corda cantando a duce quindi si avvicinano ci può essere una frizione un momento in cui si tocca la corda se c'è il muco è una viscosità è una viscosità quindi quasi un olio che questa frizione la attenua se tutta l'umidità delle corde questa frizione sbucci il muscolo della corda quindi come prende un mazzo di elastici arrotolati e tagliarne uno con la taglierina quindi il muco ci deve essere il problema è che quando è troppo o quando non ce n'è se corde sfregano fra di loro e fanno proprio come se si raschiassero se si raschiassero a vicenda io che sono un'asmatica quindi togliamo anche il falso mito che chi ha l'asma o ha allergie non può cantare perché io l'asma cronica perché io sono allergica a tutto praticamente quindi io prendo antistaminici da gennaio fino a dicembre tutto l'anno e faccio i broncodilatatori perché avendo allergie al nocciolo all'ulivo al pruno alle gramminacce tutto l'anno io parto da gennaio col nocciolo e finisco fino a gramminacce settembre ottobre e poi c'è qualcos'altro che mi riempie gli ultimi due mesi quindi io faccio il relvar che è un broncodilatatore io conosco una delle mie allieve di cui ho tra l'altro pubblicato il video lei è asmatica e fa le stesse cose che faccio io e canta benissimo quindi sfatiamo anche un po questa cosa tuttavia quando tu fai questo relvar fai questa inalazione di questa sostanza che dilata i bronchi subito dopo il lotorino la foniatra mi ha detto fai i gargarismi interessante scoprire come il gargarismo è il vocal fry perché io si metto lì che cosa faccio quando faccio un gargarismo faccio un vocal fry cioè se parte di questa polvere che deve entrare nei polmoni rimane sulle corde tu facendo un gargarismo togli il muco dalle corde compresa la polvere che ci si può essere depositata dentro quindi che cos'è il gargarismo è un vocal fry se tu lo fai senza acqua è un vocal fry se tu lo fai con l'acqua è un gargarismo infatti questa cosa glielo ho detto e lei mi fa ma che interessante questa cosa del vocal fry quindi o vi bevete un bel bicchiere d'acqua e fate un gargarismo oppure fate il vocal fry in assenza d'acqua fate il vocal fry è un'altra cosa che mi hanno insegnato che quando si sente un po secchezza nelle fauci si bere l'acqua durante il giorno sì ok ma se ho necessità nell'immediato o il concerto che mi parte tra 40 minuti c'è sta ancora sta secchezza io infatti porto sempre durante i concerti un po di acqua calda soprattutto in inverno e delle garze sterili la garza sterile la immergo nell'acqua calda e l'appoggio tra naso e bocca e respiro perché fa più bene quel vapore aqueo che si sviluppa si va a depositare sulla mucosa e quindi la idrata molto di più che bere un bicchiere d'acqua questo me l'ha insegnato un foniatra fisiologicamente perché se tu metti dell'acqua calda qui a contatto tu idrati per contatto i turbinati ma tutto ciò che c'è nei turbinati finisce in gola abbiamo tutti provato a fare quando abbiamo il raffreddore sentiamo che ci cade catare in gola quindi se tu umidifichi i turbinati automaticamente quell'umidità finisce alle corde esatto bisogna mettere proprio la garzina io le porto sempre con me e un pochino di acqua calda e bagno proprio la garzina la tengo qui soprattutto appunto se siamo in un periodo in cui siamo stati male abbiamo avuto il raffreddore ma c'è il concerto da fare e allora cosa fai l'acqua non basta più il miele non basta più per ammorbidire e lo zenzio non basta più le cose molto dolci le cose molto salate non so se hai notato quando mangi cose molto saporite quindi molto salate o molto dolci aumentano il muco e no aumentano il muco anche aumentano il muco infatti ti vien da tossire io quando faccio del che ne so robe peperonata quando faccio cose potenti mi accorgo che mangiando mi viene da tossire il desiderio di tossire è dovuto al fatto che tu senti che c'è un accumulo di muco quindi tutto ciò che è salatissimo dolcissimo in realtà aumenta il muco però l'idratazione giustamente è un'altra cosa un'altra cosa perché anche quello asciuga perché il sale toglie l'acqua esatto quindi dovresti sì mangiare il miele sì mangiare le acciughe cose molto dolci o cose molte salate però devi anche idratare se no solo quello non funziona diceva un nutrizionista abbiamo fatto un corso in conservatorio molto interessante con questo nutrizionista è un nutrizionista sportivo però in realtà si è dedicato anche ai musicisti ci diceva che prima del concerto prima di ogni concerto soprattutto per esempio per chi soffre di reflusso gastroesofageo e io ne soffro ovviamente di evitare quanto più possibili cibi acidi quindi niente yogurt niente cose fermentate niente frutta prima del concerto esatto perché la frutta fermenta nello stomaco quindi dopo vuoi farti una birretta la fai dopo il concerto non prima o perché anche perché l'alcol dipende che alcol è anche le bollicine quindi niente acqua gasata esatto niente cibi appunto acidi quindi niente limoni niente arancia niente frutta che fermenta e anche niente tè caffè io evito di bere tè caffè perché per esempio o le tisane essendo dei drenanti naturali asciugano 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 per cui dico sempre alle mie allieve eh ma io il caffè la mattina vabbè abbiamo il concerto nel pomeriggio va bene la mattina lo puoi prendere ma non prendere il caffè un'ora prima di cantare perché hai sentito non so se ti è capitato ma a me è capitato e questo l'ho imparata a mie spese che ho preso un tè prima di cantare sì tecca sì dalle mie parti si dice allippata proprio cioè ti senti proprio che non hai più salivazione come se non avessi più salivazione e quindi anche questi accorgimenti e lui diceva per esempio di mangiare delle cose asciutte non so eh dei biscotti per esempio con farine farine buone quindi non farina 00 quindi prendere non so dei biscotti di avena eh cose che asciugano se c'è appunto reflusso e che non diano energia subito e poi si si abbia il calo glicemico ma che ci sia una un rilascio graduale quindi hai energia durante tutto il concerto poi dipende che concerto è e quindi io tengo dei biscotti secchi in borsa quando il concerto o delle cialde di riso delle cose che non siano troppo troppo acide e facciamo sempre un confronto più che altro no? sì infatti il confronto come dicevo deve essere sempre costruttivo ah certo magari tu sei una cosa che io non so e io sono una cosa che non sai tu però è bellissimo perché io ad esempio tante cose non le so e quindi le ho imparate grazie a te perché poi io tanto moderno dell'irico non so nulla però non è che non mi interessi sapere cioè mi interessa sapere questo è bello questo è bello e poi sempre più vedo che poi ecco perché lo pratico pure perché mi piace pure e più lo fai e più vedi che non ci sono tutte queste differenze no infatti sì è chiaro la prassi la modalità di emissione è chiaro che cambia perché il suono lirico non è il suono moderno ci siamo ma dal punto di vista non so delle muscolature di cosa interviene anche solo il fatto dell'omogeneità di timbro è quello su cui si basa anche il bel canto è bel canto si basa sull'omogeneità di timbro quindi anche a me da fastidio sentire un cantante moderno che giù c'ha sta vocione grande così e su è un fringuellino no abbiamo non mi piace l'unica vera discriminante a questo punto è la presenza del movimento piuttosto marcato un pochino più marcato nel canto moderno nel canto moderno è decisamente più marcato da solo la parte inferiore quindi abbiamo visto che c'è molta più indipendenza quindi la grossa differenza è proprio la creazione di questa indipendenza e poi arrivati a certi registri secondo registro acuto come dico io c'è l'utilizzo fortissimo degli zigomatici anche noi abbiamo lo zigomatico eh però così così esteso però forse no così tanto così esteso boh vedere proprio cosa è poi dipende da chi lo sai ho visto che dipende molto secondo me proprio dalla conformazione fisica di ognuno perché c'è il chiedina io avevo una collega giù a Palermo che aveva gli zigomi proprio sotto gli occhi quindi già era molto oh vi ricordo la mia prima insegnante con cui ancora ci sentiamo bellissime persone sia lei che il marito era un contraltone ma in realtà prendeva delle note acutissime perché aveva sti zigomi proprio ma un vocione arrivava a note gravissime però con questo zigomo molto alto lei faceva fatica a zero a prendere sugli acuti aveva proprio una conformazione del viso particolare è interessante vedere anche la fisionomia e il timbro vocale cioè mettere in rapporto la fisionomia e il timbro vocale perché è vero che per nascita la corda può avere una dimensione una lunghezza uno spessore unico infatti si fanno sistemi di sicurezza sull'impronta digitale perché ogni voce è unica è come un'impronta del dito pollice quindi se possono fare sistemi di sicurezza vuol dire che ognuno di noi si è analizzato all'ospetto delle frequenze a una voce completamente diversa da un altro però è anche vero che poi la fisionomia cioè avere degli zigomi molto marcati ovviamente le fasce muscolari vengono distese maggiormente perché il percorso da fare non è rettilineo io ad esempio che ho pochissimi zigomi avrò uno zigomatico corto perché non mi serve avere uno zigomatico una fascia zigomatica muscolare lunga quindi devi tirare su tantissimo in questo caso tu devi tirare su tantissimo cioè devo aumentare il percorso che la fascia muscolare fa perché se la fascia muscolare fa un percorso rettilineo si tende meno se tu devi fare un cerchio si tende di più è come tirare un elastico su una superficie piatta o tirare un elastico su una superficie che ha delle pietre ovviamente la lunghezza complessiva se il percorso ha ostacoli sarà maggiore se tu hai delle ossa zigomatiche molto forti lo zigomo non procede rettilineo lo zigomo procede per espansione per allungamento e quindi lavora di più ecco perché io per schiarire o raggiungere registri molto alti devo fare molto di più utilizzo di zigomatici rispetto a uno che li ha già molto marcati lo zigomo sorge e allunga l'estensione del muscolo beh come nel canto lirico c'è chi ha per esempio più facilità in un senso mi viene in mente anche nel palato sì l'embalzamento del palato c'è chi ha più facilità c'è chi proprio si deve mettere lì a fare ore e ore di esercizi mi dico per poter sollevare bene questo palato dipende chi ha la dentatura superiore molto esposta quindi tu pensa a Freddie Mercury chi ha la dentatura superiore molto esposta è chiaro che ha un varco palatale molto più ampio quindi avrà un palato duro molto più significativo quindi trovare il palato duro cantando per gente che ha dentatura esposta è un po' più semplice di chi ha invece la dentatura superiore e la dentatura superiore esposta questa cosa mi era stata detta se metti un apparecchio ortodontico che ti allarga un po' ovviamente i cantanti ne hanno un beneficio c'è anche da dire del setto nasale perché secondo me il setto nasale ha un'incidenza molto forte sulle tecniche che poi vai a utilizzare io ho un naso molto largo quindi ho un naso quasi da persona di colore quindi io perdo aria dal naso con una facilità incredibile questo potrebbe spiegare anche perché quando io vado nei registri acuti faccio il pinch nose test di Roger Love quasi in automatico anche se non voglio il mio naso tende a bloccare la respirazione chiudiamo chiudo per istinto perché probabilmente sentendo di avere un setto molto largo io sento che ho uno spreco eccessivo di aria che si incanava più facilmente nel setto e quindi perdo di compressione e quindi mi accorgo che come cantavo prima di diventare insegnante era già includeva già questa tendenza naturale bloccare la respirazione nasale per non perdere di compressione ci sono delle persone che naturalmente vengono e delle altre che o le impari o bisogna comunque accettare la propria natura lì bisogna anche fare un po' i conti con se stessi questo so fare questo arrivo a fare dove si può migliorare si migliora ma se la fisionomia è quella infatti uno dei più grossi problemi da risolvere in ambito di docenza del canto è quando ci sono problemi alle quattro vertebre cervicali perché quando ci sono ernie spostamenti o le quattro vertebre cervicali non favoriscono l'Alexander lì ci sono grossi 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 problemi accattare anche perché poi una problematica in questa zona si ripercuote inevitabilmente anche al fondo perché la colonna vertebrale come dice la tecnica Alexander è un'unità quindi tutto ciò che accade sopra in realtà accade anche sotto di solito chi ha problemi nella zona cervicale infatti ha sempre problemi anche nel bacino nella parte finale quasi del cocci della colonna vertebrale e lì impedisce non solo l'inserimento dell'Alexander ma anche la corretta indipendenza della parte inferiore si possono avere problemi anche nella parte pneumatica del canto cioè quella che gestisce l'aria ho una corista che ha un problema alla schiena ce l'ha proprio se tu la vedi di dietro vedi proprio che ha una S proprio si può disegnare una S e lei poverina anche quando sta in piedi per compensare infatti io non le dico nulla si a modo suo lei si raddrizza quindi lei ha trovato il suo equilibrio facendo una delle due spalle perché adesso non mi ricordo dove ce l'ha però proprio quando abbiamo fatto dei lavori insieme abbiamo lavorato sul corpo e sono passata dietro di loro per capire come stanno si vedeva proprio questa S quindi lei per compensare poverina proprio si piega e ho visto che funziona cioè lei ha trovato l'equilibrio portando giù una spalla quindi è come se la schiena questa S un po' la limitasse e deve fare doppio lavoro perché fa sia di schiena che con le gambe sta un po' tutta sporta però il cino perché è riuscita a trovare la quadra cioè riuscita a lavorare con il suo sistema è giusto concludere dicendo che quando ci sono questi problemi anatomici allora lì bisogna farsi aiutare sia da ottenere l'arrilegiati o fognatri sia da fisioterapisti osteopati quindi l'insegnante di canto può arrivare a un punto in cui vi dice vai da un foniatra o vai da uno torino oppure vai da uno fisioterapista o vai da un osteopata perché quello che non esce nella voce manifesta un problema che non sempre possiamo risolvere questo è vero io concluderei questo video facendoti presentare perché se io li metto proprio paro paro come sono e si sono sentiti tutti i nostri interessanti scambi dici chi sei e dove lavori e cosa fai sono Emanuela Laporta sono una cantante sono un soprano e sono anche un insegnante insegno alla scuola di musica del conservatorio di Lugano e sono anche direttrice o meglio maestra di coro di due cori fantastici sempre a Lugano uno è un coro parrocchiale è il coro di Santa Teresa di Viganello e l'altro è il coro Colping Colping Singers sono due cori amatoriali ma sono bravissimi sono veramente fantastici e poi lavoro anche con i bambini mi è capitato di fare dei progetti a scuola con dei bambini quindi con i cori dei bambini e mi piace cantare più di ogni altra cosa poi ho scoperto Viviana con la quale è stato uno scambio veramente bellissimo perché finalmente posso dirlo ho trovato una persona con cui veramente scambiarsi delle idee senza pregiudizi perché purtroppo spesso mi è capitato con i colleghi ho il pregiudizio questa questa sempre smania di scontrarsi invece con lei non c'è c'è stato veramente uno scambio devo dire molto fruttuoso se posso fare passare il termine perché io ho fatto c'è già un libro mi piacerebbe trovare altri sei anni per scrivere il secondo ma non so se ce la farò nel senso che io te lavorando poi vivendo di questo ovviamente siamo molto indaffarate però tutto quello che è capitato in questo quasi anno ormai di scambi didattici sarebbe poi bello farne un secondo volume voce strumento interiore ma perché no ma perché no considerando i tempi che mi ci sono voluti per il primo sei anni o ci armiamo di santa pazienza o aspettiamo tempi più rilassanti poi anche facendolo con comodo però sarebbe molto bello fare un secondo volume ma perché no sarebbe bellissimo sarebbe bellissimo e è questo va bene salutiamo tutti gli utenti del canale voce strumento interiore perché così vedrete senza trucco due insegnanti di canto con gli occhiali e trovano non solo i punti di differenza ma i punti di comunione è il motivo per cui nasce questo cioè per trovare i punti di diversità ma anche i punti in comune e quindi è stato bello averti come ospite del canale ti vedrai oggi non c'era non era previsione ma va bene quindi perdete la nostra faccia senza trucco è una lezione di mattina ma è bello poterla condividere con tutti gli utenti del canale grazie Emanuela grazie a te Liliana un abbraccio buona giornata un saluto grazie a te